Nocerina Cavese, Forza Morosso, e verrà anche, ho invitato anche il sindaco di Cava, Vincenzo Servalli, che verrà con me allo stadio, guarderemo insieme la partita, ma ovviamente facendo, tiferemo in modo opposto, ma può essere un segnale bello e nuovo anche quello, abbiamo voluto dare anche quello segnale, Forza Morosso. In ultimo, per la Nocerina, la cordata che vuole rilevare il titolo, c'è o non c'è? Io le dico cosa è accaduto, sono stati pagati, nonostante l'atto formale non è avvenuto ancora, sono stati pagati gli stipendi, si sentono di nuovi acquisti, però come diceva il grande trap, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco e noi aspettiamo prudentemente che si completi tutto il lavoro. Buone speranze. Forza Nocerina. Grazie sindaco.